Il giorno e la storia Oggi è il 28 febbraio 1953 Annunciata a Cambridge la scoperta del DNA 1986 Assassinato Olof Palmer 1922 La Gran Bretagna concede l'indipendenza all'Egitto Commenta il fatto del giorno Paolo Possamai, direttore di Il Mattino di Padova Harry James, un americano in Europa, ci racconta l'anima delle città in cui ha abitato